A Clusone giovedì 28 novembre alle 20.30, auditorium della scuola primaria, un incontro pubblico dal titolo Quale Montagna Vuoi. Da chi ha organizzato questo appuntamento? Questo appuntamento è organizzato da un collettivo dall'Alta Valle di cui faccio parte, si chiama Terre Altre e abbiamo contattato Orobbie Vive che già in passato si è fatta protagonista di battaglie sul territorio per difendere alcuni principi e valori. Ci ha dato una grossa mano, loro hanno la parte tecnica che è importantissima in questo ambito in cui si vuole portare un'informazione completa e chiara riguardo a aspetti come il turismo in montagna o il comprensorio che riguarda il collettivo di Zola che sarà una parte importante della serata. Insieme siamo riusciti a creare questo incontro nel quale speriamo ci sia una grossa affluenza e vivo interesse da parte della valle. Di cosa si parlerà durante la serata? Durante la serata si parlerà dell'impatto che può avere il turismo nelle montagne, di come vogliamo vivere queste montagne anche in ottica di un'economia diversa, un'economia turistica, non dimenticando i valori a cui noi siamo ispirati. Si parlerà poi del comprensorio che si vuole fare tra Lizzola e Colere e si andranno a sviscerare gli aspetti più tecnici che riguardano appunto questa opera che si vuole portare in alta montagna. E chi saranno i relatori che approfondiranno questi temi? I relatori che abbiamo invitato sono Luca Rotta, un blogger conosciuto che su questi argomenti ha già speso molte parole, si è schierato ben chiaramente negli articoli che pubblica, ci darà una mano a inquadrare cosa sta succedendo nelle nostre montagne in relazione alla monocultura dell'uscita e discesa e agli aspetti che riguardano questa sfera. Poi abbiamo invitato Agnese Moroni che fa parte del progetto di ricerca Beyond the Snow che proporrà delle possibili alternative da mettere in campo rispetto a forme di promozione turistica che si è visto negli anni, non è che ce lo inventiamo, portano comunque a determinati problemi che non si possono più ignorare al giorno d'oggi, nel 2024 con la consapevolezza che abbiamo. Dopodiché la seconda parte ci saranno Angelo Borroni e Lucio Tonninelli che parleranno degli aspetti più tecnici del comprensorio, quindi si parlerà di spostamenti di seggiovie, metrature, piste, luoghi che andranno toccati, in quale modo e soprattutto dei vincoli ambientali che ci sono in queste aree. Grazie. 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 Grazie.